mamma mia ho preso solda mamma mia che brutto sogno che ho fatto sono le 5 e io devo andare a fare la spesa i supermercati fortunatamente chiedono alle 6 e mezzo c'ho ancora tempo i guanti ce l'ho la mascherina ce l'ho no perché sentite io vi volevo raccontare madonna che brutto suono faccio fatto ho sognato ho sognato che niente di meno noi tenavamo una specie di moneta l'euro 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 ma che ero figurate la mille lire era paragonata a questa specie di moneta una moneta un euro un euro sì sì un euro figurate la mille lire di moneta e che ce fai niente fammi vedere poco vediamo quelle che riuscimmo a fare madonna ci sono tutte le lire ah no no eccole qua vediamo un po che riesco a fare sono 10 12 14 15 16 17 18 19 e 20 ah sono 20 mila lire riesco a fare una bella spesa pensi che me ne torno a casa con un carrello pieno di cose madonna ragazzi che incubo che incubo avevo sognato che non ci stava più la lira mamma mia e ci stava questa moneta questa moneta strana monetina moneta tutte queste cose una moneta di un euro due veri due veri mi pare che erano due veri ma poi insomma una moneta inutile noi teniamo le lire meno male che teniamo le lire madonna che brutto suono che ci ha fatto era un incubo veramente un incubo tutti in euro si parlava in euro scusate mi date un chilo di mele quant'è e io cacciavo la mille lire della cosa e quella nel sogno diceva ma che è sta mille lire mi devi dare due euro e cinquanta due euro e cinquanta ho detto ma che è sta roba madonna che incubo meno male che erano suono meno male che erano suono